Il prefetto di Crotone Tiziana Tombesi con provvedimento del 3 luglio 2020 ha sospeso il Consiglio Comunale di Cutro fino alla emanazione del relativo decreto di scioglimento nominando per la provvisoria gestione il prefetto in qui escienza il dottor Domenico Mannino con i poteri del sindaco, della giunta e del consiglio. Tale provvedimento prefettizio si è reso necessario a seguito delle dimissioni divenute irrevocabili da parte del sindaco di Cutro Salvatore Di Nuovo. Il prefetto Mannino è nato a Reggio Calabria il 22 gennaio del 1947, coniugato, si è laureato in giurisprudenza nel 1970 a Messina ed è abilitato all'esercizio della professione di avvocato. Nel corso della sua carriera il prefetto Mannino ha prestato servizio presso le prefetture di Catanzaro, Reggio Calabria e Pisa, ha ricoperto inoltre diversi incarichi tra i quali si ricordano quelli di competente della Commissione Straordinaria per la gestione del Comune di Nola e le gestioni commissariali dei comuni di Ardore, Anoia, Cesignana, Melito, Portosalvo, Benestare, Stignano, Locri, Villa San Giovanni, Taurianova e Ancona. Nominato prefetto il 30 dicembre del 2003 ha svolto le funzioni di prefetto di Massacarrara, di Rimini e di Livorno. Da novembre 2017 a novembre 2019 il prefetto Mannino è stato nominato componente della Commissione Straordinaria per la gestione del Comune di Isola di Caporizzuto, sciolto per infiltrazioni della criminalità organizzata ai sensi dell'articolo 143 del Tuel.